O spende l'istruttore, i tuoi certificati, autentici, bollati, con talvedere di peggere, la casca in un parò, per questo mio specifico, simpatico, cronifico, un oncio in vaginario, e vale in unirario, donno di dieci bamboli ancora diventò, di diecio, venti bamboli che il donno diventò, per questo doni che sana, in breve settimana, la sua vita, ci sono giusti dei peggere, l'istruttore, i tuoi ricordata, sono stati impolato con un uccanismo, e l'istruttore, con un uccanismo! Niii! Niii! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.